Questa sera arriviamo alla seconda tappa del nostro ciclo Scenari per il Futuro nel quale qui a Monza parleremo, dopo aver affrontato la tematica dal punto di vista geopolitico nel precedente incontro all'Eco, parleremo in questo caso di geoeconomia quindi di come gli scambi, il sistema degli scambi commerciali internazionali si sta modificando e dal punto di vista economico l'impatto dello scenario energetico va a condizionare le catene del valore nelle quali le aziende dei nostri territori sono assolutamente attive quindi sarà un secondo tassello di comprensione rispetto a questi fenomeni macro che stanno accadendo nel mondo L'incontro di questa sera fa parte di un ciclo di conferenze che abbiamo organizzato nei vari territori che presidiamo per cui siamo partiti con l'Eco, oggi c'è Monza, a seguire ci saranno Como, Sondrio e Varese l'obiettivo è quello di dialogare con la popolazione, con le istituzioni, con le aziende del territorio oggi siamo nella sede prestigiosa di Assolombarda di Monza e ci confronteremo su una tematica che è quella di provare a ripensare gli scambi commerciali e le strategie energetiche per gli anni a venire Grazie a tutti Grazie a tutti